salve amici e amiche bentornate nel mio canale nuvole di lana oggi vorrei proporvi questo lavoro di scialle come viene definito a semicerchio molto particolare bello che io ho tratto da uno schema che ho preso da internet ve lo vorrei mostrare e vi confido anche che non è molto molto facile poterlo estrapolare diciamo così bisogna saper leggere anche gli schemi però la soddisfazione finale alla fine è una bella gran cosa riuscire a poterlo elaborare e arrivare al risultato finale come potete notare io ho lavorato con questo filato di lana che è misto acrilico e lana intercalato da un filo così leggermente dorato bello delicato prezioso che impreziosisce che impreziosisce proprio il lo scialle o il mantello come lo vogliamo definire il lavoro che ho estrapolato si diciamo divide in rapport che sono semplicissimi però vorrei specificare che il primo rapport è questo e poi a seguire vanno gli altri 1 2 3 come potete notare all'altezza dei punti puff finisce il primo rapport poi si fanno i punti alti e si ricomincia da capo quindi una volta che io vi faccio vedere come eseguire la prima parte del rapporto che serve per elaborare il nostro lavoro potete andare avanti fino all'altezza desiderata che preferite quindi molto molto semplice diciamo è ripetitivo nel senso che va aumentando logicamente lateralmente da una parte e dall'altra con i punti perché il punto che fa la differenza come dico io sempre però è molto molto bello allora io di partenza se volete seguirmi mi fate cosa gradita ho elaborato dentro un cerchio di catenelle 4 punti alti separati da 3 catenelle e 4 punti alti ci tengo a precisare che sia nella parte iniziale che quella finale deve essere ripetuto sempre un tris di punti alti incluso quello che da linearità al nostro margine di lavoro qua quindi io adesso rigiro il mio lavoro faccio le 3 catenelle di base che rappresentano un punto alto e nella stessa base lavoro altri 2 punti alti come definisco io un tris di punti alti che farò sia all'inizio che alla fine del lavoro e lo ripeterò comunque poi lavoro sopra i punti alti sottostanti altri altri tanti punti alti fino arrivare all'archetto questo centrale dove lavoro due punti alti due catenelle e due punti alti questo è l'inizio di quello che sarà lo schema della nostra linea centrale sempre uguale pressa poco diciamo così proseguo e su ogni punto alto io lavoro un altro punto alto tanti sono i punti alti sottostanti tanti io lavoro fino arrivare all'ultimo dove ripeterò il tris sulla stessa base di punti alti tre nella stessa base incluso quello che da linearità al nostro lavoro questo è il risultato che abbiamo ottenuto quindi ricordiamoci che sia all'inizio che sia alla fine iniziamo sempre con un tris di punti alti partendo dalla stessa base ok ora rigiro lavoro e ripeto nuovamente una due tre catenelle e tre punti alti e due punti alti che insieme alle catenelle fanno tre dopo di che proseguo mi tiro il filo scusate abbiate pazienza salto un punto alto nel punto alto seguente lavoro due punti alti una catenella e due punti alti salto il punto di base vado nell'altro punto e ripeto due punti alti una catenella e due punti alti poi vado dentro l'archetto centrale e lavoro lo stesso tipo di punto ma sempre inizio salto il punto di base anche qua salto il punto di base anche qua e ripeto nell'altro punto un due punti alti una catenella e due punti alti poi vado dentro l'archetto centrale e lavoro lo stesso tipo di punto ma sempre inizio dentro l'archetto centrale. Due punti alti, due catenelle e due punti alti. Proseguo, salto il punto di base, vado all'altro e lavoro. Due punti alti, una catenella e due punti alti. Salto il punto di base, vado all'altro che segue e anche qui ripeto in simmetria all'altro lato praticamente due punti alti, una catenella e due punti alti sempre nello stesso punto di base. Quindi uno, un archetto, due archetti, tre archetti, un archetto, due archetti e tre archetti. Ora raggiungo praticamente la parte finale dove lavoro il tris di punti alti, uno, due e il terzo sull'ultima catenella di base del punto sottostante che dà linearità al nostro lavoro. Questo è lavoro che abbiamo ottenuto ora. Ora proseguo, rigiro il mio lavoro, tre catenelle, di nuovo ripeto il tris di punti alti, sempre sulla stessa base e questa volta vado direttamente dentro l'archetto che ho del ventaglietto del punto sottostante e mi ripeto facendo due punti alti, due catenelle e due punti alti. Cioè sfrutto l'archetto del lavoro sottostante per ripetere un altro archetto, così faccio in quello a fianco, due punti alti, una catenella e due punti alti, come ho fatto nel giro sottostante. Ancora, io adesso raggiungo l'altro archetto e quello centrale. In questo secondo giro di archetti, in questo arco centrale, come potete notare, io lavoro però questa volta quattro gruppi di punti alti, nel senso due più due, quindi due punti alti, una catenella, due punti alti, tre catenelle di separazione, dentro lo stesso archetto, ripeto di nuovo due punti alti, una catenella, due punti alti. Ho raddoppiato anche perché mi servirà questa base di archetto e l'altra base a parte opposta come aumento del lavoro che stiamo facendo, perché va aumentando lateralmente da una parte e dall'altra. Quindi raggiungo poi e proseguo l'altro arco che ho lavorato e preparo anche qui, lavorando due punti alti, una catenella e due punti alti. Molto semplice. Ancora, proseguo, raggiungo l'altro arco senza aggiungere catenelle, punti bassi, nulla, direttamente dentro l'archetto, ripeto un altro archetto, due punti alti, una catenella e due punti alti. ho un altro arco e anche in questo archetto io ripeterò lo stesso lavoro, due punti alti, qui in questo spazio, due punti alti, una catenella e due punti alti. ora raggiungo la parte finale, questa del bordo, dove lavorerò tre punti alti, il tris, uno, due punti alti, il terzo sull'ultimo punto alto sottostante che dà linearità al nostro lavoro. Ok? Ora questo è il lavoro che abbiamo ottenuto. Guardate come viene grazioso. È la parte, è la prima, seconda, terza parte di rapporto che stiamo lavorando per raggiungere poi quella finale. Proseguo una, due, tre catenelle e ripeto in questo lato d'inizio il tris dei punti alti. Poi badate bene, una, due, tre, quattro catenelle, raggiungo l'archetto che ho fatto nel giro sottostante e qui lavoro un punto puff con le mie gettate. Una, due, tre, quattro catenelle, raggiungo con l'altro archetto e faccio un altro punto puff con le mie gettate. Dipende dal filato che avete scelto, che avete usato, regolatevi voi. Una, due, tre, quattro catenelle di separazione e raggiungo ancora questo archetto centrale, questo archetto, che non è questo archetto laterale, scusate, e faccio un altro punto puff. una, due, tre, quattro catenelle e raggiungo ancora l'altro arco, quello che faceva parte del gruppo centrale che abbiamo detto serviva e servirà per fare il nostro aumento. Quindi va aumentando anche così. Faccio un altro punto puff. una, due, tre, quattro catenelle e qui raggiungo invece l'arco centrale dove farò due punti puff, anziché uno, sempre dentro lo stesso arco con le mie gettate. Due, tre, quattro, a me bastano. Una, due, tre catenelle, dentro lo stesso arco centrale un altro punto puff. tre, e quattro, ecco qui. Chiudo e blocco. Questa è la prima parte che ho fatto del mio rapport che sto eseguendo, che sto per terminare. Adesso in simmetria all'altro lato mi ripeto. una, due, tre, quattro catenelle, raggiungo il primo archetto e qui ripeto di nuovo un altro punto puff. Chiudo, blocco, proseguo. Una, due, tre, quattro catenelle, un altro punto puff. Chiudo, blocco e proseguo. Una, due, tre, quattro catenelle, raggiungo l'altro archetto, ancora un altro punto puff. Una, due, tre, quattro catenelle, raggiungo la parte finale, qua al centro della parte finale e faccio il mio tris di punti alti, incluso quello del bordo margine, chiamiamolo così. Questo è il lavoro che abbiamo ottenuto come termine del nostro rapporto, perché adesso faremo solo una linea di punti alti, inclusi i punti delle catenelle che abbiamo lavorato, tanto sono i punti di catenella, tanto sono i punti alti, inclusi quelli dei punti puff. Quindi, abbiate pazienza nel seguirmi, purtroppo il lavoro è questo, da svolgere, rincominciamo con il tris di punti alti, lavorandoli l'uno sopra l'altro. Anche dentro l'arco delle catenelle, lavoro il numero di punti alti, tanto quanto le catenelle. Poi lo lavoro anche sul punto puff, così. Vado avanti, lavoro ancora, tanti punti alti, quanti e catenelle, se ne avete fatto tre, tre punti alti, se ne avete fatto quattro, quattro punti alti, incluso il punto puff. E questo è la fine del primo rapporto che abbiamo, del nostro rapporto di lavoro, praticamente, perché poi dopo si va a ripetizione, cioè ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto finora. così. Una, due, tre, incluso il punto puff. Qui all'interno dell'archetto, io lavoro nuovamente, 1, 2 punti alti, 3 catenelle, dentro lo stesso archetto, 1, 2 punti alti, e proseguo. Un punto alto sul punto puff sottostante, e poi, di nuovo, la serie di punti alti. tante quante le catenelle che abbiamo lavorato, incluso il punto puff. Lo ripeto così, io stessa non lo dimentico, mi viene più facile lavorarlo e farlo, ma anche per ricordarlo a voi. Che mi seguite? quindi 1, 2, 3, 4, ho fatto 4 catenelle, e un punto puff. Fa sempre un punto alto, poi di nuovo, 1, 2, 3, 4 catenelle, e il mio punto puff. Anche perché, se noi lo facessimo più breve, il numero dei punti alti, andrebbe a stringere il lavoro, quindi deve risultare uguale, al lavoro del giro sottostante, il numero uguale allo stesso, numero di catenelle. Altrimenti, andrebbe proprio a, come dire, perdere il suo equilibrio, la sua regolarità di lavoro. Invece, vedete bene, che facendo, eseguendolo in questo modo, mi permetto di metterlo sopra all'altro, si nota benissimo, come abbiamo raggiunto, il nostro primo rapporto. Questo. E non è altro che ripetere, lo stesso lavoro, che abbiamo fatto all'inizio. certamente non parto dal vertice, ma continuerò in modo regolare, dagli archetti, come potete notare qua. Quindi, rigiro il mio lavoro, vi faccio vedere, vi faccio vedere questo inizio, uno, due, tre punti alti, sulla base dei tre punti alti, il tris di punti alti, poi salto due punti di base, al terzo punto, lavoro il primo archetto, due punti alti, una catenella, e due punti alti. di nuovo salto due punti di base, al terzo punto, lavoro di nuovo un altro archetto, due punti alti, una catenella, due punti alti. Salto di nuovo due punti di base, al terzo, ripeto nuovamente lo stesso lavoro, due punti alti, una catenella, e due punti alti. Salto due punti di base, al terzo, ripeto, due punti alti, una catenella, due punti alti. Ripeto lo stesso lavoro, salto due punti di base, al terzo punto, due punti alti, una catenella, due punti alti. Salto due punti di base, al terzo punto, ripeto lo stesso lavoro, e così vado avanti, fino a raggiungere il vertice. Dentro il vertice, lavorerò lo stesso punto, salto due punti di base, e lavoro. due punti alti, una catenella, e due punti alti. Salto due punti di base, qui, quasi, voglio dire un'altra cosa, in concomitanza del punto puff, facciamo l'archetto, guardate, l'archetto, che poi verrà ripetuto, allo stesso modo. su questo archetto, ripeto, due punti, su questo punto puff, due punti alti, una catenella, due punti alti. Poi raggiungo la parte centrale, questa, dove ho lavorato all'inizio, e mi ripeto, allo stesso modo, due punti alti, tre catenelle, in questo caso, e due punti alti. Si va avanti, così, di seguito. Guardate, vengono in questo modo. Ora, facendo il rigiro a lavoro, non vorrei rubarvi tempo, ma neanche essere noiosa, ripetiamo, su questi archetti, altri tanti archetti. Una volta, fatto il doppio giro, degli archetti, dentro l'archetto, lavoriamo il punto puff, e abbiamo finito, il nostro rapporto, con il giro, di punti alti. Quindi, è facilissimo. Come potete notare, anche qua, una volta finito, il giro, degli archetti, io faccio, i punti puff, e la linea, dei punti alti. Una volta, finiti i punti alti, ripeto, di nuovo, il giro, di archetti, che è doppio, uno e due, e sul, dentro, ogni archetto, un punto puff, così. Finiti i punti puff, ripeto, la linea, dei punti alti. Vado avanti, di seguito, da una parte, e dall'altra, in questo modo, aumentando, di lato in lato, qua, al vertice, ogni volta, che faccio, quattro, punti, anziché due, due, più due, più due, più due, diventano quattro, e un, il primo archetto, e l'ultimo archetto, fanno, da, aumento, sia una parte, che all'altra, e si va avanti, di seguito, così. Quindi, mi sembra, molto semplice, facile, da eseguire, non vedo, difficoltà, io, questo, ve l'ho mostrato, giusto, per farvi capire, come si va avanti, senza, iniziare, dal vertice, che non c'entra niente, ma, logicamente, si rincomincia, dagli archetti, due giri, di archetti, un giro, di punto puff, per ogni archetto, e sopra, i punti puff, la linea, di punti alti, tante, quante catenelle, vorreste usare, e anche, sul punto puff, e poi, ci si ripete, di nuovo, uguale, allo stesso modo, cioè, spero, di essere stata semplice, non voglio essere, né ripetitiva, ma neanche, noiosa, a me, il lavoro, è piaciuto tanto, mi è sembrato, un capolavoro, riuscire a estrapolarlo, da un altro schema, dalla serie, schemi, di internet, tratti, per lavoro, di scialle, e non è neanche semplice, semplice, dico la verità, però, alla fine, è una bella, grande soddisfazione, riuscire a elaborarlo, riuscire a estrapolarlo, a farlo, è veramente bello, soprattutto, questo punto, che mi è capitato, sott'occhio, e mi è piaciuto, e ho avuto piacere, di condividerlo con voi, sperando, di avervi fatto, cosa gradita, quindi, non mi resta altro, che salutarvi, ringraziarvi di tutto, per la vostra attenzione, per la compagnia, che mi fate, per me, molto importante, credetemi, e, non mi resta altro, che salutarvi, come mio solito fare, con l'augurio, di vederci, al prossimo tutorial, virtualmente, vederci, sentirci, e vi saluto, perché, come gli altri lavori, abbiamo usato l'uncinetto, come sempre, en crochet, grazie, grazie di cuore, di tutto, grazie ancora, al prossimo tutorial, en crochet, salve, ciao!